La scultura in bronzo del principe Marco è stata ideata nel 1910 come studio per una raffigurazione equestre in gesso dell'altezza di 5 metri ed esposta alla mostra Medulic del 1910. Già l'anno successivo la scultura è stata distrutta e ne sono stati conservati solamente frammenti e abozzi. L'eroe popolare sul cavallo impennato è raffigurato come personificazione di forza e determinazione. Ivan Mestrovic ha modellato il cavaliere come una forza primordiale, come un iniziatore simbolico del popolo sulla cui persona aggrava il peso della difesa dell'identità nazionale. È per questa ragione che ogni singola parte della composizione emana un'energia motrice. Il cavallo è impennato, dalle cosce e il collo tesi e dalla bocca aperta. L'intero corpo sembra come se si preparasse per lanciarsi al galoppo. In modo eguale è rappresentato anche il cavaliere. Il corpo nudo è muscoloso e impegnato in una rotazione così che il torso è girato sul fianco. In questo modo esso si adatta alla resistenza dell'aria mentre si lancia in una marcia vittoriosa. La modellazione interamente assoggettata al tema. Mestrovic ha liberamente articolato l'anatomia esaltando nella muscolatura, il che è in conformità all'intera eredità simbolica insita nel principe Marco. L'intera composizione è dinamica. Ogni singola parte del cavaliere e del cavallo è in movimento per prorompere in una forza indistruttibile.